negli ultimi 15 anni sono sbucati come funghi i corsi di difesa personale femminile quei corsi di difesa personale dedicati specificatamente ed esclusivamente alle donne è un business da migliaia e migliaia di euro anche quando sono gratis spesso dietro c'è un business da migliaia migliaia di euro ma questo poco importa la cosa importante è che siano cose utili che siano cose che hanno senso e nella quattordicesima puntata del nostro podcast è proprio su questo che voglio ragionare con te hanno senso i corsi dedicati esclusivamente alle donne i corsi di difesa personale dedicati esclusivamente alle donne oppure sono soltanto una trovata commerciale e una forma di ghettizzazione delle ragazze ne parliamo nella nuova puntata di donna sicura ciao da eugenio e benvenuta alla quattordicesima puntata di donna sicura il podcast dedicato alla prevenzione e alla lotta contro la violenza sulle donne siamo le ultime tre puntate di questa prima stagione e per queste ultime tre puntate vorrei concentrarmi su qualcosa di un po più concreto rispetto alla teoria e alla prevenzione in maniera tale da darti degli strumenti utili per fare delle valutazioni qualora tu volessi iniziare un percorso che appunto ti possa permettere di imparare non solo la parte teorica e preventiva della difesa personale importantissima ma anche la parte fisica altrettanto importante purtroppo e prima di iniziare questa nostra puntata permettimi di ricordarti ormai come faccio sempre di toglierti un auricolare dall'orecchio qualora tu fossi in giro per strada e stessi ascoltando questo podcast mentre stai rientrando a casa dal lavoro stai facendo una passeggiata stai rientrando a casa dalla palestra o stai passeggiando con il cane ricordati sempre di avere coscienza di ciò che accade attorno a te e di non farti mai trovare impreparata ok ti ricordo anche che questa stagione finirà con la puntata numero 16 ma che noi rimarremo comunque in contatto tramite la safe letter ovvero la newsletter dedicata a tutte quelle donne che vogliono sentirsi più sicure ad avere dei consigli dei suggerimenti su come migliorare la propria sicurezza quotidiana per iscriverti alla safe letter non devi fare altro che andare sul sito di donna sicura donna sicura punto com e in fondo a qualsiasi pagina trovi il modulo di iscrizione fallo è importante anche perché appunto voglio continuare nel momento in cui mettiamo in pausa questo podcast per la prima stagione voglio continuare a rimanere in contatto con te e a darti informazioni utili e suggerimenti utili e poi ad avvisarti quando partiremo con la seconda stagione appunto ok tra l'altro sul sito donna sicura punto com hai anche accesso a tutte le puntate di questa stagione ben ordinate per cui mi raccomando vedi di farci un salto ok e ti ricordo anche che qualora tu avessi qualsiasi domanda da farmi non devi fare altro che mandare un messaggio alla mia email personale eugenio chiocciola dojo con la j di juventus domodossola otranto juventus otranto shin con l'h quindi savona hotel imola napoli sui savona udine imola punto com si buonanotte aspetta eugenio chiocciola dojo shin sui punto com si giusto perdonami e giustamente se mi vuoi insultare per la difficoltà del mio indirizzo email beh fallo tramite email ok oppure puoi lasciare un commento nel nel video youtube questo podcast è caricato anche sotto forma di video sul canale youtube del dojo shin sui che è la la mia casa virtuale ok ma adesso iniziamo a ragionare un attimo sui corsi di difesa personale femminile intanto una prima domanda a cui è doveroso rispondere hanno senso i corsi di difesa personale femminile o sono soltanto una trovata di marketing un modo per spillare soldi e per far leva sulle paure delle donne senza dar loro niente o dando loro contenuti di poco valore cose poco applicabili e utopiche beh diciamo che la risposta sta nel mezzo ovvero hanno senso i corsi di difesa personale femminile per una serie di ragioni di cui adesso ti andrò a parlare al tempo stesso è anche vero che buona parte la maggioranza delle attività che vengono proposte è oggettivamente fuffa che viene fatta o per motivi commerciali quindi per effettivamente andare a rimpolpare il portafoglio dell'istruttore o della associazione o società che li organizza o del comune oppure per motivi di di autorevolezza e diciamo di visibilità sui social perché scrivere e organizzare un corso di difesa personale femminile è sempre un qualcosa che crea dell'hype che crea dell'agitazione che ci fa andare alla ribalta sui vari profili social e ci dà una sorta di autorevolezza ci fa passare come insegnanti disposti a impegnarsi nel sociale bla 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 tutte cose molto nobili che per qualcuno pochi sono di sicuro vere ma per la maggior parte sono belle idee per spillare per l'appunto denaro a persone che magari hanno dei bisogni reali e allora vedremo nella prossima puntata come scegliere un corso che sia effettivamente utile e che non sia soltanto una perdita di tempo e eventualmente di soldi ma andiamo prima a capire perché un corso di difesa personale femminile è utile e non è una ghettizzazione delle donne non è un tentativo o almeno non dovrebbe essere un tentativo di allontanare magari le donne dai corsi maschili chiamiamoli così i motivi sono tre prima di tutto perché uomini e donne in caso di aggressione nella maggioranza dei casi si trovano a gestire situazioni differenti o meglio ci sono delle situazioni specifiche che le donne si trovano a dover gestire che è improbabile che un uomo debba affrontare e quali sono queste situazioni beh quella della violenza sessuale ovviamente quella del della persona insistente ok del persecutore e quella magari dello dello stalking sono situazioni più probabili per una donna e più improbabili per un uomo e quindi è intelligente andare a strutturare un percorso formativo dove si analizzino in maniera specifica queste situazioni qua non solo è anche diverso il metodo di ingaggio che una donna di solito si trova a dover gestire un uomo probabilmente si troverà a dover gestire dei rituali di sfida una donna probabilmente si dovrà si dovrà trovare a gestire un uomo che cerca di appunto avvicinarsi a lei e che avrà un modo di fare che è diverso dal modo di fare che ha un uomo nei confronti di un altro uomo qualora cercasse di aggredirlo ok quindi prima di tutto ha senso perché in effetti le situazioni sono differenti e in un corso generale quindi un corso aperto a uomini e donne è difficile è difficile riuscire ad andare a affrontare certi argomenti perché e qua arriva il secondo motivo beh prima di tutto perché di solito la platea maggiore è quella maschile e quindi sono argomenti che interessano meno anche se devo spezzare una lancia in favore per esempio dei miei allievi dove ho avuto dove ho potuto vivere all'interno dei miei corsi grazie a loro delle esperienze molto positive perché alcune ragazze erano interessate a delle dinamiche specifiche che magari si sono trovate a dover vivere e i ragazzi del corso si sono resi non solo disponibili ma partecipi a aiutare aiutarmi ad analizzare queste dinamiche a lavorare su queste dinamiche per determinati periodi quindi io in realtà ho vissuto una situazione privilegiata situazione che non è diciamo per tutti diverso è il discorso in altri corsi dove comunque la platea è prevalentemente maschile e è improbabile che ci sia questa sensibilità a meno che veramente non ci troviamo in una situazione fatta di persone illuminate e oltre a questo si va a creare anche spesso una situazione di forte imbarazzo perché non è facile andare a parlare di aggressioni sessuali di violenze di determinati scenari davanti a degli uomini diverso è se la donna si trova con un istruttore di cui ha fiducia e con cui ha instaurato un rapporto durante un percorso anche minimo e allora si sentirà più protetta più a suo agio e in diritto e in dovere di parlare di alcune cose ma nel momento in cui si dovresse trovare di fronte a una platea ampia con uomini lì diventa davvero molto più complicato perché comprensibilmente c'è tutto il fattore dovuto all'imbarazzo imbarazzo che tra l'altro purtroppo spesso è ampliato dalla stupidità di alcuni soggetti che frequentano i corsi di difesa personale e che hanno magari il cervello sviluppato quanto gli uomini di neandertal per cui questo è il secondo motivo motivo numero uno diversità delle situazioni che una donna si trova ad affrontare rispetto a quelle di un uomo motivo due il fatto che l'analisi e l'allenamento alla risposta a queste situazioni specifiche spesso crea imbarazzo e poi c'è un terzo motivo da non sottovalutare motivo che tra l'altro è stato mi è tornato agli occhi l'altra sera mentre stava guardando su netflix una serie molto bella che mi sta piacendo molto che si chiama the rookie dove parla di dove si parla di reclute nella polizia americana che stanno facendo il loro periodo di addestramento e dove c'è una situazione in cui una ragazza una poliziotta recluta viene aggredita durante una fase di dopo aver risposto una chiamata viene aggredita da un uomo grande decisamente grande strafatto di metanfetamine e questo uomo ovviamente la soverchia lei non riesce ad agire entra in gioco la sua istruttrice che sistema la situazione e alla fine di uno scambio di parole e anche non solo di parole anche qualche insulto due schiaffoni l'istruttrice le spiega che ciò che le insegna un istruttore uomo di un metro 80 per 90 chili è di sicuro valido ma è poco applicabile da una donna di 1 70 per una cinquantina di chili scarsi soprattutto se hai a che fare con soggetti molto più grandi di te e molto più forti di te e quindi bisogna trovare delle soluzioni differenti perché la parte tecnica diciamo possa funzionare ecco questo è un altro grande problema che le soluzioni generali che vengono proposte in corsi generalistici sono tutte valide a livello tecnico poi si potrebbe parlare di come vengono allenate ma ne parliamo nella prossima puntata le soluzioni di per sé sono valide ciò che può diventare limitante è la disparità di forza peso fra uomo e donna quindi nel momento in cui una donna si trova a doversi difendere da un uomo potrebbe avere delle gravi difficoltà ad applicare buona parte delle soluzioni che vengono mostrate per cui un programma tecnico per le donne andrebbe strutturato su quello che sono le esigenze delle donne su quello che sono le possibilità fisiche più comuni delle donne che sono oggettivamente differenti da quelle mediamente perseguibili da un uomo è più semplice per un uomo atterrare un altro uomo rispetto che per una donna è più semplice per un uomo finire in una situazione di lotta rispetto per che per una donna proprio perché entrano in gioco in determinate situazioni il peso e la forza e quindi un programma tecnico andrebbe sviluppato sulle basi delle caratteristiche medie di una donna rispetto alle caratteristiche medie di un uomo poi ci sono eccezioni ci sono casi particolari io ho avuto allieve che avevano una forza indomabile altre lieve invece che nonostante magari una fisicità più importante avevano difficoltà a esprimere forza insomma ogni persona è un mondo a parte e non si può generalizzare però per riuscire ovviamente a proporre un programma tecnico bisogna avere delle linee guida e le linee guida per un programma tecnico femminile sono diverse da quelle per un programma tecnico maschile e io te lo dico con grande sincerità ci ho sbattuto molto la faccia su questo su questo argomento al punto che ma te ne parlerò un'altra volta donna sicura la metodologia che insegno che ho progettato viene da anni di sperimentazione con le ragazze proprio perché dovevamo trovare delle soluzioni vabbè io un po sono privilegiato da questo punto di vista perché sono una persona minuta sono un metro e settanta per 65 chili quando proprio sono in tiro ma raramente reggo i 65 chili di solito sono sui 61 63 quindi ho una fisicità più simile a quella che può essere la fisicità femminile però anch'io posso far leva su alcune caratteristiche prettamente maschili come lo sviluppo della forza che alcune donne hanno più difficoltà a esprimere e quindi ho deciso di lavorare insieme a mia moglie insieme alle ragazze che via via venivano a seguire le nostre attività per lavorare in modo sperimentale quindi per cercare pian piano di andare sempre ad aggiustare il tiro e a prendere il l'attività sempre più idonea e efficace perché poi è quello che a noi interessa efficace per quello che può essere una donna che deve gestire appunto un'aggressione da parte di un uomo ovviamente nel momento in cui una donna riesce a gestire un'aggressione da parte di un uomo sarà mille volte facilitata a gestire anche l'aggressione da parte eventualmente di un'altra donna quindi diciamo che facciamo un asso piglia tutto per cui ci sono tre motivazioni che rendono sensato il la creazione lo sviluppo di corsi specifici per le donne che possono tranquillamente essere un approfondimento o un punto di partenza per poi andare nel caso del punto di partenza per poi andare a seguire perché no dei corsi generalistici dove comunque si imparano tante cose utili oppure nel caso in cui tu segua già un corso generalistico può essere un ottimo occasione per approfondire tutte quelle cose che in un corso generalistico non vengono non vengono appunto mostrate però perché un corso di difesa femminile abbia senso di esistere e non sia una mera trovata commerciale che può diventare addirittura controproducente e pericoloso per chi lo segue deve avere alcune caratteristiche e di questo te ne parlerò nella prossima puntata per oggi è tutto mi raccomando tieni sempre gli occhi aperti se la puntata ti è piaciuta condividila condividi questo progetto con tutte le ragazze che conosci e che reputi abbiano interesse a capire come aumentare la propria sicurezza come aumentare la propria serenità per strada condividilo via email via social segui il nostro account instagram e se hai delle domande mi raccomando non c'è nessun problema basta che mi mandi un'email o mi contatti in privato sull'account instagram di donna sicura va bene io fino alla prossima puntata ti auguro una buona settimana un buon fine settimana dato che venerdì mi raccomando tieni gli occhi aperti e ci sentiamo venerdì prossimo un abbraccio e un saluto